Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video su OSM Ghirardini ha sbagliato già una cosione in person Nei brushes eh ah il CT il noam guarda la aroma noam guarda la aroma nooo nooo non no no nooo vabbè ehm chissà 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 CHISS CHISS NONONONONONO no 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 è ferma no 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 ragazzi no 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 no